Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Czesli. Il portiere bianconero intorno al 40esimo minuto del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un malore. Toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato dunque sostituito da Mattia Perini in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Comunque un bello spavento per il polacco che ha lasciato il campo in lacrime. Secondo quanto riportato Saskia Sport il portiere avrebbe accusato una tachicardia. Rientrata una volta sceso negli spogliatoi. Il 32enne polacco è stato sottoposto a un elettrocardiogramma che ha dato esito negativo. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!